Spinta dentro la sua auto, legata, minacciata e infine derubata del cellulare. Mezz'ora di terrore per un'infermiera di mestrino sequestrata da un nordafricano la sera del 13 febbraio in via San Massimo a Padova, appena uscita dal reparto di geriatria dove lavora. La squadra mobile di Padova ha individuato l'autore dell'aggressione. È un 28enne tunisino arrestato lo scorso 6 marzo con l'accusa di aver rubato l'auto di una donna in via Trieste e di aver rapinato quattro prostitute, due delle quali aveva costretto anche a rapporti sessuali. Un criminale senza scrupoli è molto pericoloso. Forse quella sera di febbraio voleva abusare anche dell'infermiera. La dinamica è perfettamente identica ad altri casi in cui l'azione si è conclusa con l'avvenimento sessuale e credo che la signora sia stata particolarmente fortunata perché se quella sera non ci fossero state le pattuglie del reparto mobile in lontananza poteva rischiare grosso. A salvare la donna i lampeggianti dei mezzi della polizia in via Vigonovese che stavano seguendo la manifestazione Corri per Padova. Il tunisino spaventato aveva abbandonato la vittima nell'auto ed era scappato a piedi mentre lei disperata usciva per cercare aiuto. Pochi giorni più tardi aveva rapinato altre cinque donne e per questo era stato arrestato. Ore prove schiaccianti incastrano il malvivente. Abbiamo elementi oggettivi risultati dal profilo biologico dell'arrestato confrontato con il materiale rinvenuto sulla sciarpa con cui la parte offesa era stata legata. Grazie. 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 Grazie a tutti.